Sono 37 i pazienti covid in attesa di un posto letto nei pronto soccorso delle Marche, ma crescono i dimessi e calano i ricoveri. Crescono ancora le vittime, 11 nelle ultime 24 ore, tutte con patologie pregresse per un bilancio drammatico che arriva a 2.771 persone dall'inizio dell'emergenza sanitaria nelle Marche. E la fotografia è la chiusura di una settimana in cui il contagio comincia a rallentare, seppur lentamente nelle Marche. Sono 857 i ricoverati, 23 in meno in 24 ore, 132 sono i degenti covid in rianimazione, 2 in meno rispetto a ieri, con un'occupazione al 54% dei posti disponibili, ancora ben al di sopra della soglia del 30%, come prevede il Ministero della Sanità. Sul fronte del contagio sono 414 positivi scoperti nelle ultime 24 ore nel percorso delle nuove diagnosi, con un'incidenza del 16,8% a cui si aggiungono i casi positivi degli antigenici rapidi da testare nuovamente con il molecolare. Responsabilità individuale e un impulso maggiore nella vaccinazione. Ad oggi le Marche rasentano l'80% delle dosi somministrate su quelle disponibili. I posti di terapia intensiva sono sempre molto elevati perché l'adegenza media è molto lunga, quindi dimettendo di meno, chiaramente quei pochi che arrivano in questi giorni non trovano a volte posto. Noi abbiamo viaggiato per dei mesi che ogni giorno necessitavano di posto letto 100, 120, 150 pazienti. Siamo sotto a 50 in questi giorni, quindi significa che un risultato lo stiamo vedendo. Mi auguro che i comportamenti siano quelli corretti perché chiaramente tutto dipende da questo, ma d'altra parte l'aumento della copertura immunitaria per chi ha avuto contatto con il virus in giro, o sia malato o sintomatico o meno, l'aumento dei vaccinati ci permetterà di fare quell'equilibrio in modo tale che il virus circolerà di meno e speriamo di uscire con l'estate a poter avere un momento di maggiore tranquillità. Questo è indispensabile perché bisogna riprendere la vita normale, riprendere l'attività, ma tutto dipende sia dalla velocità della campagna vaccinale ma dai comportamenti.